Italia-Irlanda, ultima partita del girone, non è decisiva perché ormai siamo primi, siamo qualificati con un turno in anticipo e matematicamente primi nel nostro girone e diciamo che con il seno del poi è stato qualcosa di negativo perché andremo a incontrare la seconda del girone tra Spagna e Croazia con tutte probabilità sarà la Croazia Questa sera, di quando sto registrando il video, ci sarà il big match, proprio lo scontro diretto e sapremo chi andremo ad incontrare noi Comunque è un turno talmente corto che tanto vale prendere subito delle squadre grosse per mantenere alta la pressione, per mantenere alta la concentrazione Quindi io credo che l'Italia abbia fatto un'impresa vera e propria ad arrivare prima del girone e che sia stato meritatissimo perché la prima partita con il Belgio è stata, la conosciamo tutti, l'abbiamo vista tutti una partita fantastica Invece la seconda con la Svezia è stata meno bella ma siamo riusciti a essere molto attenti non abbiamo praticamente mai subito un tiro nello specchio della porta L'unico tiro che ci ha impensierito è stato quel bolide Ibra che è stato lanciato sulla Luna che ricorderemo tutti tra l'altro in fuori gioco però tutti i meriti vanno ad Antonio Conte e alla sua nazionale Ora, con un turno d'anticipo, la qualificazione in tasca, il primo posto matematico possiamo anche fare qualche esperimento possiamo permetterci di far riposare diversi giocatori che hanno giocato dall'inizio tutte le partite e anche quelli diffidati quindi mi aspetto di vedere qualche cambio, qualche faccia nuova anche perché abbiamo tantissimi giocatori di talento come Zaza, come Insigne, come Bernardeschi, come il Sharaoui che hanno visto poco il campo o comunque quasi mai perché solamente Zaza tra questi quattro ha giocato e ha fornito l'assistato a De Ver quindi mi piacerebbe vedere anche un po' tutti gli altri ma come al solito, forza Italia, forza Azzurri grazie